Ciao a tutti dal Marito Tuttofare, oggi parliamo di pulizia della casa e andiamo a vedere insieme questa aspirapolvere ciclonica batteria del marchio Greenote. È un prodotto che mi ha lasciato veramente stupefatto. Andiamo a vedere che cosa troviamo all'interno della confezione e come funziona. Procediamo con una veloce overview delle caratteristiche principali del modello GSC50 che ha un motore da 200 Watt, una batteria integrata da 2200 mAh e una potenza di aspirazione di 23 kPa. La capacità del serbatoio di raccolta è di 0,6 litri. Andiamo adesso a togliere tutti gli accessori e tutti i componenti della confezione, li mettiamo sul tavolo e vediamo insieme che cosa troverete all'interno della scatola. Questo è quello che troviamo all'interno della confezione, partiamo subito con il corpo dell'aspirapolvere che come potete vedere è molto compatto. Tra l'altro la particolarità di questo modello è che non ha una batteria estraibile, non ha bensì, è tutto integrato all'interno del corpo dell'aspirapolvere. Basterà quindi schiacciare per separarlo dal serbatoio contenitore e quindi abbiamo l'unità motore e batteria che è un tutt'uno così come potete vedere ed è veramente leggerissima. Sulla parte posteriore troviamo il jack per la ricarica. Il corpo dell'aspirapolvere che è ben costruito si può aprire sia dalla parte inferiore semplicemente per essere svuotato, altrimenti può essere aperto anche nella parte superiore per provvedere alla pulizia del filtro. Abbiamo un primo filtro esterno mentre all'interno abbiamo il filtro in carta che tra l'altro trovate anche come ricambio sostitutivo tra gli accessori dell'aspirapolvere. Anche questa devo dire che è ben costruita ed è veramente anch'esso poco pesante e veramente maneggevole. Abbiamo poi la spazzola rotante che è il corpo pulsante di questo aspirapolvere. Come possiamo vedere abbiamo un tubo flessibile veramente ben costruito, lei può ruotare a circa 180 gradi quindi possiamo raggiungere tutti gli angoli anche quelli più scomodi. Spazzola rotante così come vediamo nella parte inferiore che può essere sostituita basterà semplicemente premere e sfilare. Sulla parte anteriore troviamo i led che sono veramente un qualcosa in più su questo prodotto perché andranno a sparare durante l'aspirazione una luce rasoterra che ci consente di mettere in evidenza tutto quello che è lo sporco e la polvere quindi potremmo raggiungerlo facilmente. Troviamo inoltre una spazzolina per i tessuti dalla forma ovale, il beccuccio che rispetto ad altre aspirapolvere di questa tipologia è molto lungo quindi ci consente davvero di arrivare ovunque per aspirare nelle parti più scomode, chiaramente l'alimentatore per la ricarica della batteria, uno spazzolino per la pulizia di tutti i componenti e l'asta telescopica centrale che ci consente quindi di allungare o accorciare il braccio dell'aspirapolvere secondo le nostre esigenze. Se siete d'accordo direi di andare ad installarlo completamente e fare qualche test di aspirazione. Un'ulteriore particolarità di questo dispositivo rispetto a tanti altri simili è che riesce a rimanere in piedi da solo perché come possiamo vedere sulla parte superiore è presente un incastro quindi mi basterà semplicemente portarlo in posizione e come vedete il dispositivo resta in piedi da solo senza necessità di essere tenuto. Questa è una funzione che troviamo solitamente su aspirapolvere i rimarchi molto molto più costosi quindi devo dire che è un'altra differenziazione di prodotto che troviamo sul marchio Greenwood e non su altri marchi. Il funzionamento è veramente semplice per avviarlo basterà schiacciare il pulsante posto su un manico e il dispositivo si avvia istantaneamente. Sulla parte superiore trovate il pulsante più o meno che consente di scegliere il livello di aspirazione tra due livelli preimpostati. È molto maneggevole vedete come si riesce a muovere tranquillamente e con facilità e i led sulla parte anteriore mettono in evidenza lo sporco e quindi ci consentono di perdere veramente meno tempo durante le pulizie perché riusciamo a vedere man mano che ci spostiamo con l'aspirapolvere dove ci sono briciole e dove c'è sporco. Bene siamo arrivati alla fine della nostra recensione se state cercando un prodotto per la pulizia quotidiana che sia robusto che sia affidabile e che abbia un ottimo rapporto qualità prezzo potete valutare questo prodotto di Greenwood. Al momento in cui io sto effettuando la recensione il prodotto costa sul sito del produttore circa 150 euro quindi è veramente un rapporto qualità prezzo eccezionale. Se avete delle domande sul prodotto fatele pure nei commenti se volete supportare il mio lavoro vi invito ad iscrivervi a voi non costa nulla ma a me consentirà di portarvi sul canale sempre nuovi contenuti e nuovi prodotti. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo test.